Al momento sono molte le iniziative messe in gambo dai vari assessorati anche della Giunta. Ovviamente un'attenzione particolare sul progetto speciale sinistese che prevede l'utilizzo delle royalties legate anche all'acqua in particolar modo e una buona attenzione anche su quello che è il GAL sulla cittadella del sapere, quale è un organismo misto privato e pubblico che ha una spinta importante in tal senso per lo sviluppo sia turistico, culturale e tutto ciò che ne deriva. Ovviamente tutto questo in questo specifico momento storico è legato all'approvazione del bilancio regionale che come sappiamo è il disegno di legge comprensivo del DEF regionale, della legge di stabilità, della legge di bilancio. Al momento sono proprio in discussione nelle commissioni consigliari permanenti. In qualità di presenza del Consiglio io prevedo di poterlo portare tra l'8 e il 9 di maggio in approvazione totale così da poter utilizzare i tanti fondi messi a disposizione e sbloccare una serie di iniziative. Ovviamente per quanto riguarda alcuni temi specifici come quello per dire all'ambiente, all'agricoltura o a quelle che sono le attività produttive, questo pomeriggio avremo modo di ascoltare direttamente dagli attori principali quali gli assessori a ramo. Noi come Fratelli d'Italia questo pomeriggio potremo ascoltare da loro direttamente dall'assessore Latronico, appunto deputato all'Ambiente e dall'assessore Galella alcune iniziative, alcune proposte che sono già in itinere ed alcune che invece necessitano di essere completate. Quindi l'attenzione è massima sull'area sud e io in verità spero di poter dare anche un mio contributo per quello che è la candidatura al patrimonio dell'UNESCO che in questo momento è sostenuta appunto dalla Cittadella del Sapere e conto attraverso il Consiglio magari di poter approvare una risoluzione nel più ambia possibile e quindi attraverso una risoluzione voluta e approvata dall'intera assise regionale affinché sia un documento in più, un appoggio in più, ci sia una manifestazione chiara e concreta delle intenzioni della Regione Basilicata.